Quando saliamo in macchina non sappiamo mai dove poggiare il nostro smartphone in modo sicuro affinché non cada e non si rompa. La soluzione oggi ve la dà Acefast, un supporto per smartphone che vi permette di poterlo ancorare saldamente in modo tale da non farlo scivolare. Due sono le possibilità che abbiamo ma direi di non perdere altro tempo e di scoprirle subito. Ok prima di cominciare con l'unboxing volevo farvi vedere un attimo la confezione. Allora brand Acefast qua abbiamo l'anteprima del nostro prodotto, include i magneti multifunzione, qua abbiamo il modello Car Holder D7, qua abbiamo di nuovo l'anteprima e qui abbiamo delle specifiche, il modello e i materiali. Per ogni unboxing che si rispetti ci uniamo delle nostre forbici che fanno pandan con la confezione, apriamo il sigillo. Ok e vediamo che cosa c'è al suo interno. Ok allora tiriamo fuori. Allora qua abbiamo un breve librettino delle istruzioni con tutti i passaggi per l'installazione, qua abbiamo i vari supporti. Allora primo sacchettino, questo è l'adesivo che viene agganciato nella macchina e qui abbiamo tutti gli altri supporti. Allora adesivi 3M, come vedete qui da applicare, anche qui. Questo dovrebbe essere supporto, sì esatto. Allora lo possiamo agganciare in due modi, quindi abbiamo due possibilità. Allora la prima possibilità è quella di attraverso la ventosa attaccarlo al parabrezza. Chiaramente utilizzeremo sempre questa testa, la sfera che gira, questo è magnetico. Andiamo. Sì, come vedete è A ed è veramente molto molto forte. Dovrebbe avere 7 magneti. Qua abbiamo l'anteprima di nuovo del brand, Acefast. Sempre così con questo nero lucido. Questa parte gommata che non va a rovinare le nostre superfici. Questo si avvita e si svita. Quest'altro prodotto invece che viene collegato alle bocchette di climatizzazione. Quindi avete due possibilità su come collegare, dove agganciare il vostro smartphone. Ma direi subito di andare in auto e provarlo. Prima di cominciare volevo ringraziare l'azienda che mi ha mandato il prodotto per poterlo provare e testare. Adesso lo andremo a installare nella mia auto. Vedete com'è. Ok, questo è il primo supporto che andrà qui nelle bocchette. Allora andate a stringere fino ad arrivare a battuta. Come vedete poi prendiamo l'altro pezzo e andiamo a innestarlo. Andiamo ad avvitare. Perfetto. E il nostro supporto è montato con il mio iPhone 12 mini. Come vedete è super ancorato. E potete tranquillamente utilizzarlo senza nessun problema. Il secondo prodotto, questo invece viene agganciato con la ventosa nel parabrezza. Ve lo faccio vedere. Andiamo a rimuovere prima questa parte in plastica e lo andiamo ad applicare nel nostro parabrezza. Già prima di applicarlo come vedete c'è questa levetta che dovete andare ad alzare. Lo applicate al vetro e andate a chiudere in questo modo. Questo lo andate a orientare e adesso andiamo a inserire la nostra parte. Andiamo ad avvitare. In questo modo qua. E adesso andiamo a posizionare il nostro iPhone. Questo è il risultato. Potete, come vedete, andare a orientare e girare. In alternativa, se il vostro cruscotto è piano, potete attraverso l'adesivo molto potente applicarlo in diverse zone del cruscotto in modo tale da poi poterlo posizionare. L'adesivo è molto molto forte. Io l'avevo attaccato al parabrezza e ho fatto molta molta fatica a rimuoverlo. Per quanto riguarda il magnete ci sono sei magneti, sei calamite che vi permettono di ancorare il vostro cellulare. In questo caso l'iPhone ha la parte MagSafe, quindi calamitata per la ricarica, quindi come vedete è veramente super ancorato. Se il vostro telefono non presenta la parte magnetica dietro, ci sono in confezione degli adesivi che possono essere applicati nella parte posteriore del vostro smartphone. Uno un po' più piccolo e uno un po' più grande. Poi la testa a sfera vi permette di poterlo orientare in diverse posizioni. Finalmente ho trovato la soluzione che cercavo. Acefast ci dà la possibilità di poter scegliere con due prodotti. Uno da attaccare nelle bocchette di climatizzazione e l'altro da poter agganciare al parabrezza con la ventosa o magari il pratico adesivo. Vi dà la possibilità di poter portare con voi questi accessori, magari se siete in viaggio o per motivi di lavoro cambiate auto. Veramente molto molto comodi e pratici. La calamita è veramente potentissima. In nessun caso il vostro smartphone vi cadrà dall'alloggiamento. Veramente un'ottima soluzione. materiali devo dire molto buoni. Una qualità delle plastiche veramente veramente ottima. E già da qualche giorno che lo provo sono rimasto veramente molto molto soddisfatto. Mi piace tantissimo questa colorazione nera che si abbina alla perfezione con gli interni di quasi tutte le auto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se anche voi avete provato dei prodotti del genere. Vi lascio qui sotto il link in descrizione ad Amazon per dare un'occhiata sul prezzo ed avere altre informazioni. Fatemi sapere con un bel like se vi piace questa tipologia di video così da portarvi altri contenuti tech nel mondo delle auto. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da Acefast e Loretech era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!